Ieri sono uscite le motivazioni della sentenza trattativa Stato-mafia, lì adesso è Ministro dell'Interno. Cosa pensa di quegli infedeli servitori dello Stato, anche tra le forze dell'ordine che avrebbero depistato? Lei uno come contrada solo terrebbe in polizia? Io penso che sempre e comunque chi sbaglia deve pagare, se lo fa a nome per conto dello Stato deve pagare doppio. E se indossa una divisa deve pagare triplo. Quindi se ce ne sono pochi, ma ce ne sono, devono pagare più di altri, però non fatemi fare il giudice, l'avvocato o il cassazionista, quindi prendo atto.